Saranno una decina le polizze assicurative rinnovate dal Comune di Caserta nei prossimi giorni. Una minima parte, se si pensa alle 26 auto della Polizia Municipale e alle 44 che fanno parte del parco auto del Comune. Sarebbero state reperite infatti delle risorse, circa 5.000 euro, per poter rinnovare una parte delle polizze di durata bimestrale. Il mandato di pagamento da inoltrare alla tesoreria, pronto ad essere firmato, attende la risposta della compagnia assicurativa che vanta nei confronti dell'ente un credito di 37.000 euro. A tornare in carreggiata saranno almeno 5 veicoli della Polizia Municipale, l'auto utilizzata dal primo cittadino più del Gaudio per impegni istituzionali, le vetture in dotazione dei servizi sociali e quelle del servizio ispettivo del settore ecologia e servizi amministrativi. Resterà fermo ancora per un po' invece il mezzo destinato al nucleo comunale di produzione civile. Una soluzione temporanea, la cifra da restituire alla compagnia assicurativa, non può essere saldata non ora che il Comune di Caserta è in dissesto finanziario. Intanto continuano i disagi per strada, meno verbali in assenza dei vigili, ma anche meno interventi a tutela della cittadinanza. Il blocco delle auto ha infatti determinato il conseguente stop a pattugliamenti, notifiche e interventi su eventuali incidenti stradali. Diverse le richieste di intervento in evase nei giorni scorsi, tanti invece i casi in cui i vigili hanno preferito utilizzare la propria auto, una situazione che deve necessariamente svoltare.